Bene. Allora, adesso andiamo alla seconda. Tutto, tutto conciliabile alla teoria dell'evoluzione, del Big Bang e tutto, no? Dio disse ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte, siano segni per le feste, hanno il calendario lunare, gli ebrei, per i giorni e per gli anni e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne e Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Bello quello che ci aggiungono la notte, ma poi anche le stelle, perché insomma ci vuole un po' di luce a led, no? Anche di notte, perché se no, ecco, solo i fari della strada, insomma, no? Ma questa qui è una cosa molto semplice, ma pensate detta allora. C'è un giro gli egiziani, quelli con la barbetta così, che giravano sui muri con le spalle girate, no? Questi qui adoravano il Dio Sole, Osiride, Iside, no? Ra. Cioè è questa la Bibbia dice adorate come se ne adorassimo le lampadine. Questi qui sono lampadine, non sono dei, sono lampadine. Detto allora a quel tempo non è una cosa da niente, eh? Gli ha ridotti a lampadine. Dio vide che era cosa buona e fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra. Quindi prima ha separato e poi ha messo in ordine e ha riempito di bellezza, no? Dio creò i grandi mostri, marini, pensate quando vedevano una balena, da dove viene quella, cosa c'è? Ma cosa c'è sotto l'acqua in fondo? Boh, c'è l'abisso, c'è la morte, c'è, no? E tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, anche i gamberetti, ecco queste cose qui, le seppioline che mangiamo, secondo la loro specie. E tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona, c'è tutto buono, non c'è niente che non è buono. Dio li benedisse, ha detto bene, qui in questo caso vedete che si aggiunge la benedizione. Alle cose, le cose non le ha benedette, mentre gli esseri viventi li ha benedetti, no? Cioè ha detto bene. Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari. Gli uccelli si moltiplicano sulla terra e fu sera e fu mattina, quinto giorno. Ecco, siate fecondi. La benedizione conteneva sempre una mission, no? Io ti benedico perché tu possa essere, no? Ti benedico per qualcosa, non solo perché benedico così per niente, ma ti do un compito, ti benedico perché tu possa realizzare questa tua vocazione, questa tua missione. Dio disse la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili, animali selvatici, secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie. il bestiame secondo la propria specie. Tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse, ecco e qui comincia la storia, ecco, il ritmo finisce. Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine secondo la nostra somiglianza. Allora, l'ha così, ha detto, Dio l'ha fatto con la terra, perché l'uomo è terra animata, spirituale, spirito incarnato. Adesso quindi sì, però non è proprio così l'uomo, c'è qualcosa di più, ma perché l'uomo, ecco, ha bisogno dell'altro, di un altro che gli stia di fronte. Da cosa deriva questa cosa? Solo dalla sessualità, dalla genitalità. Ma forse è qualcosa che c'è più di profondo, no? E allora ecco che qui spiega. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, perché noi assomigliamo a Dio. e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Noi l'altra volta avevamo detto, no, che l'uomo, Dio gli ha detto, dai il nome alle cose, quindi tu domini sulle cose, conosci il nome, il segreto di ogni cosa. Dice facciamo, ecco, questo facciamo, e ci facciamo chi? Se era da solo, no? Ma con chi dice facciamo, no? E allora ecco che arriva la creazione dell'uomo. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò quando ci sono queste due versetti che sono un po', anche qui pensate un po', sull'altare, ci sono due candelabri messi paralleli oppure due vicini messi così, c'è tutta una liturgia, no? Ecco, Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, cioè c'è proprio un rispecchiarsi, no? Perché deve essere una cosa liturgica. Maschio e femmina li creò. Allora, che cosa vuol dire? Come lo si può capire questa cosa? Mettiamo il caso che io voglio, beh, come si può spiegare? Dio che crea l'uomo, no? Lo crea a sua immagine. Allora, io avevo sempre fatto per i fidanzati, anche per i bambini, avevo fatto realizzare da una ragazza che disegnava molto bene, un'immagine, no? C'è questo omone qui di spalle, no? Nei capelli lunghi, vestito di bianco, con in mano uno specchio, no? E nello specchio si vede il suo volto. dall'altra mano ha un pennello e comincia a disegnare. E cosa disegna? Due esseri, l'uomo e la donna. Allora, questa è l'immagine. Cioè Dio ha detto, ma voglio fare uno che mi assomiglia, no? E sono venuti fuori due. Quindi ciò che ci rende simile a Dio è l'essere due. Anche perché lui è tre, no? Quindi la caratteristica divina dell'uomo, quello che rispecchia l'immagine di Dio, è il suo essere per, è il suo essere con, e non è il suo essere single. Nel senso faccio i fatti miei e basta. Cioè allora, ma anche i preti e le suore come li giustifichi allora se siamo fatti per amore? Certo, se uno va a fare il preto e la suora perché non vuole sposarsi, perché non vuole amare solo se stesso, solo Dio, non va bene. Deve essere uno che sa amare, chiamato ad amare, ad amare in maniera più grande, diversa, ma non che ama se stesso. Se no, non è una vocazione. Quindi tutti gli uomini, dal primo all'ultimo, dal celibe all'omosessuale, sono tutti chiamati ad amare e non ad amarsi. E quindi, perché questa è la caratteristica che contraddistingue l'uomo da tutti gli altri esseri. Dio li benedisse e disse loro, come gli animali, siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela. Dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse, ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona. prima era tutto buono, qui è molto buono, e fu sera e fu mattina sesto giorno. Allora, sesto giorno perché? Perché? Vediamo un po' se... no, non ci siamo, va bene. Sesto giorno perché? Perché l'uomo non è perfetto. È stato creato il sesto giorno. e poi sappiamo del settimo giorno che adesso però non ho qui nella cosa, possiamo eventualmente leggerlo, visto che ci abbiamo ancora qualche minuto, no? Ci leggiamo, questo è la creazione del settimo giorno perché? Perché il settimo giorno è il il vertice di tutta la creazione, non è l'uomo, è il settimo giorno. E quindi cosa dice? Dio disse ecco, così furono fatti, portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro, settimo vuol dire finito, tutto, no? Tutto il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che gli era, che egli aveva fatto creando. Ecco, il settimo giorno quindi è importante perché è il giorno in cui anche Dio si è riposato. Pensate a quei tempi che non c'erano giorni di festa, no? Per il popolo israeli dice no, un giorno a settimana tu non puoi continuare a lavorare sempre nella vita. ecco, devi riposare. Ma riposare, non so se siete mai stati in Israele quando era un po' più tranquillo, no? Ma il settimo giorno al sabato io vedevo nella zona proprio dove c'erano gli ebrei osservanti, quelli con tutti i ricciolini così, c'era fuori di casa, c'era un papà con tutti i bambini e lui leggeva. Perché il settimo giorno è il giorno che non puoi fare nient'altro, è il giorno in cui tu ti incontri con Dio come dovrebbe essere la nostra domenica. È il giorno dedicato a Dio, basta. È il giorno dedicato a stare con Dio, no? per gli ebrei è talmente importante il settimo giorno poi dopo vabbè anche tra di loro ci sono quelli che vivono bene o male la loro fede, no? Ma è talmente importante il settimo giorno che la sera prima si accendono le due candele, la donna accende le due candele in casa che sono le candele ecco il segno della vita, si si porta un po' la mano sul volto quasi per prendere la luce di Dio e si entra nel settimo giorno. Il settimo giorno per il popolo di Israele si può vederlo quasi come uno che entra in piscina. La piscina è Dio, l'acqua è Dio e il settimo giorno tu ti tuffi e stai con Dio. Sei tutto inebriato, bagnato di Dio, ti fondi con Lui, no? Come mai il voto per Israele e per gli ebrei e il sabato e il giorno di festa per noi e la domenica come mai? La risurrezione? Per gli musulmani venerditi. Certo, beh, allora, primo perché per gli ebrei il sabato se noi dovessimo dire qual è il giorno di festa dell'umanità dovremmo dire il sabato, no? Quindi anticamente. Certo, no? Poi per noi è venuto la domenica perché è il primo giorno dopo il sabato cioè l'ottavo giorno dove Gesù risorge e quindi allora per noi è più importante la risurrezione. Tant'è vero che la risurrezione è nell'ottavo giorno cioè è una nuova vita comincia una nuova settimana riprende da capo, no? Dopo il sabato c'è la domenica. Per i musulmani allora c'è sabato c'hanno già quell'altra domenica c'hanno a noi venerdì penso che sia per distinguersi o perché qualche cosa è successo maometto il venerdì sarà andato in paradiso eccetera ecco ma il sabato è cioè troppo importante io mi ricordo di avere scoperto proprio la domenica quando era il seminario nel 72 quando c'erano le domeniche senza macchina vi ricordate? è la prima esperienza e cosa fai? Il tempo? Cioè non puoi più andare in giro non puoi più no? E quindi pensiamo al covid il covid potrebbe essere un sabato un continuo sabato no? in cui tu sei ecco lì non erano con Dio come molti erano ecco va bene comunque no? È un tempo un tempo dedicato poi l'altra cosa bella che il sabato per quelli che ci credono diventa il giorno della festa il giorno in cui non si fa niente non si lavora ma perché ha una cosa più importante da fare stare con Dio e allora non posso mettermi lì qualche volta ai primi tempi che ero prete ecco venivano delle donne a confessarsi che dicevano ho fatto il bucato la domenica perché fare il bucato la domenica secondo la teoria del sabato non puoi la domenica fare il bucato perché no la domenica è il giorno di festa ne andava messa ma per gli ebrei mi sembra che sia proprio per gli ebrei hanno tutta la casistica non puoi accendere il fuoco non puoi fare più di tot passi non puoi niente no perché allora è chiaro che dopo la casistica diventa diventa una formalità allora ecco io non posso fare cinque passi mi cade l'animale nel pozzo e lo lascio crepare e no c'è qualcuno che ha bisogno e dice ma perché guarisci il giorno di sabato perché voi non andate a prendere cioè sabato è fatto per l'uomo non l'uomo per il sabato no e quindi è vero ci sono come dire il precetto della domenica anche noi ma di domenica questa domenica è di precetto o sabato prima del Natale che il Natale è domenica è di precetto di Natale o della cioè non esiste proprio non esiste non se ne parla e abbiamo dovuto anche noi fare i precetti no ma i precetti primo chi li osserva quasi più nessuno non gliene frega niente nessuno no ecco e poi non puoi vivere una fede solo con la legge come diceva San Paolo eccetera ma ci vuole il cuore no non puoi circonciderti e poi dopo non hai il cuore circonciso no ecco la cosa bella è che per esempio le donne quando vanno al mercato eccetera guarda vedono un bel fulare oppure una una gallina ecco qualche cosa di un frutto lo comprano per il sabato no perché il sabato è il centro del vertice no è la domenica io cosa cosa facevo di solito nelle parrocchie dove sono stato il lunedì c'era l'adorazione sul tema della domenica al pomeriggio su quello che si era fatto la domenica e la sera leggevo le letture della domenica dopo per prepararci a celebrare la domenica cioè la domenica diventa come sabato il centro della vita del cristiano no tant'è vero che anche Dio ha osservato il sabato per cui i sacerdoti vedete uno che fa tutto però anche lui osserva il sabato perché il sabato è il giorno in cui Dio incontra l'uomo sta con lui nel giardino passeggia nel giardino con l'uomo ecco direi che adesso lasciamo le domande eccetera